Ce la fai a ammazzare questo? No, non ce... No, 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 no Ma che cosa cazzo fai? Ma che cosa cazzo fai? Brutto coglione! Brutto coglione! Mi senti? Brutto coglione! Vai sull'altra! Ma se mi ammazzano di no pensi che sono di qua? Madre signore! Madre signore! Madre! Ma te che cazzo prendi la pistola al contrario porco diaz! Ma che cosa fa? Ma ha fatto quattro colpi e l'ha preso neanche una volta! Ma non ho veramente parole figa! Non ho veramente parole! Fatteli ti prego! Sono bianchi! Fatteli! Dietro! Ma cosa cazzo fai??? Ma cosa cazzo fai?!? Nonò nono 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 No, 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 no nOOOOOO come faceva esser dentro su ma com'è possibile ma come cazzo è possibile ma com'è possibile ma gli ho messo quattro pavimenti ma non è possibile non è possibile si tua sorella quella p***na che si pigliava madre mia madre mia potevo giocarla bene ah poi un altro non eravamo in due figriamo il squad OCCO DROIA! figlio di troia! figlio di troia! 620 e quanto cazzo ti devo fare! ah è pure un mio abbonato aspetta che è solo cute si si aspetta che è solo chicco dagli amici tanto so che ce l'ho dentro hai tro? vieni ah è solo chicco aspetta so chi è puoi sансciare dietro un pesco puoi sanzcopare ah ha hahah ah ha hah ah ha 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 olivし are you seriousiss? ecco e Vegga e regga